Oggi diremo di un vocabolo che è entrato violentemente nell'uso corrente e quello che è curioso nell'uso corrente maschile e femminile, eppure ha una valenza squisitamente maschile. Le navi da guerra dell'antichità classica avevano oltre ai remi un albero maestro. In fase di navigazione e di trasferimento all'albero maestro era collegata una vela, in fase di battaglia l'albero maestro veniva abbattuto, quindi l'albero era fatto incernierato in modo che si potesse ergere e abbassare. Si chiamava Cazios. Ogni riferimento è facile da condurre e capire a cosa mi sto riferendo.